Aperto nel weekend il nuovo svincolo di Varese contribuisce a snellire il traffico in entrata al capoluogo. L'uscita destinata a chi arriva dall'autolaghi provenendo da Milano è collocata a metà bretelle e consente di raggiungere la città giardino senza convogliare l'intera circolazione su Largo Flaiano. Nato in funzione della grande S lunga realizzata all'interno della Exmalerba, il tratto sfocia in corrispondenza del centro commerciale all'imbocco di Viale Europa. Il primo tratto dello svincolo è intitolato a Luigi Ambrosoli, intellettuale, storico, grande e studioso di Carlo Cattaneo. Il secondo, che va dalla prima rotonda fino a Viale Europa, è invece intitolato a Teresa Mattei, esponente politico, pedagogista, nome di punta della resistenza.